Hola, io sono Marcus Corona e signore e signori bentornati nella TecmiCraft 5, non lo so, stavo per dire for, per forza dell'abitudine, non lo so, non lo so, non lo so, la prima puntata è strana, io non ho ancora modo di vedere il vostro feedback, noi ho registrato i due, questa sarà l'ultima, poi parto per Torino e quindi ci rivediamo subito dopo, non ci sarà poi bla bla bla, quindi non ho idea se l'avete apprezzata, se l'avete glorificata con i vostri pollici a zizzo, non lo so. Però è strana, questo pack è strano perché alla prima puntata abbiamo un Hardened Energy Cell, abbiamo un Industrial Apiary, abbiamo un sacco di semi ed è davvero 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 strana. Ora, non abbiamo modo di fare secchielli, non abbiamo modo di fare picconi perché non abbiamo la cobblestone, ci dà soltanto sta cobblestone qua, fino a quando non avremo un singolo pezzo di ferro non potremo fare il Cisel per trasformare questa cobblestone nella cobblestone normale. Però ho visto che c'è un bellissimo, bellissimo, bellissimo rewards qui, per 8 di pane, cioè lui con 8 di pane mi dà un Lava Fabricator e un Bucket, il Lava Fabricator, scusatemi, produce lava usando gli RF, ok? E il Bucket prende la Lava, quindi potrei fare un generatore di cobblestone, quindi ci siamo, io prenderei sempre questi, andrei a metterlo qui vicino. Il problema di questo è che oggettivamente consuma un fracco di energia, ma proprio tanta, 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 tanta. Andiamo a dare un occhio, soprattutto andiamo a mettergli che può far uscire l'energia a destra. Guardate quanto consuma, guardate quanta poca lava ci sta facendo. E adesso, qual è il grosso problema? È che è notte. È notte e non si vedeva, buccio di culo, fessa pareva, significa che non possiamo fare niente perché abbiamo soltanto l'energia solare. Ora, io direi che comunque un piccone stupidissimo ce lo facciamo, perché no? Oppela. E direi che è venuto il Bobetto di piantare i nostri semetti. I nostri semetti che possiamo però fare su una piastforma diversa, perché adesso abbiamo un bucket of water. Andiamo a fare così e sigillare questa zona in modo che Marcus Krohn non cada nel nulla cosmico. Perfetto. Adesso io ho un po' paura perché allargandomi e non potendo fare una fornace, non ho le torce. Esatto. Quindi se io mi sposto laggiù a 21 cubi di distanza, beh ragazzi, arrivano i mob. E i mob rompono Erquelo al povero Marcus Krohn senza nessun tipo di armatura e senza niente di niente di niente di niente di niente di niente di niente. Allora, come facciamo a fare un orto? Ma la risposta è molto semplice, cercando di non morire. Ora, tra l'altro, questa qui è una pseudo sky factory, quindi che significa? Significa che se io adesso casco, perdo tutto e devo ricominciare. Normalmente mi metterai il keep inventory, però... Ni. Non lo so. Forse dovrei essere... dovrei io rendermi un po' più intelligentaone e buttare tutto dentro. E tenere soltanto, ad esempio, queste cosine qui che non... Oddio, forse è meglio che il secchiello lo lasci lì, eh. Ok. Allora, come facciamo? Però se io non prendo il piccone, tutto questo va un po' a mignottate. Qui c'è già l'acqua, effettivamente. Già c'è l'acqua, quindi io potrei fare così. Ma... Che cazzo c'è qua sotto? Ma non mi dire che... Ah, no, che carino, è messo al sicuro. Quindi in realtà potrei fare... Esattamente. Vediamo se qui c'è il buco. Eh, c'è il buco. C'è il buco. Ce potevo pensare prima? Sì, ce potevo pensare prima. È vero. Mazzono un babbeoide. Così poco dirt c'ho? Aha, ce n'ho quattro. Ragazzi. Ok, altri due pezzettozzi. Io li metterei uno qui. E uno qui. E voilà. Allora, la vanga la possiamo fare perché con legno tutto è bello. Quindi facciamo la vanghina. Eccola qua. Fantastico. E poi andiamo a prendere i crop stick dell'agricraft e i semi. Eh, non lo so. Sì, forse. Boh. Oh, attenzione. 16 di questi ci danno le cose... Ma sto pacchetto è troppo veloce, raga. È stranissimo. Vabbè, diamogli fiducia, dai. Diamogli fiducia. Vediamo un po'. Ah, fantastico. Ah, 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 ah. Il problema dell'agricraft è che, non so se ve lo ricordate, se mettiamo un crops qui, questo potrebbe modificarsi geneticamente. Potrebbe uscire un'altra cosa. Quindi per ora li teniamo a incrocio. Come cresce veloce, ragazzi. Sta crescenzolo. Eh, è già cresciuto. Fantastico. Maraviglioso. Ah, bellissimo. È fantastico. E guardate, clic, 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 clic e clic. Ok. Noi potremmo anche fare così, effettivamente, in modo che questi qui si espandano. Ve lo tolgo questo qui, ragazzi. Si espandano e ci escano più semi. Mi devo ricordare di non cliccarci sopra. Ah, no, ok, va bene lo stesso. Più, eccoli qua. Che cos'è uscita? No, è uscita l'erbaccia. L'erbaccia non ci piace. Dobbiamo, ci deve dire un po' culo. Perché purtroppo questo fregno fertilizza anche lì. E lì c'è questo problema. Uh, ecco i semi. Sono usciti i semi. Quindi abbiamo guadagnato un semino di grano. E no, merda. Guardate l'erbaccia quant'è stronza. Ma state a vedere. Bastarda. Bastardissima. Allora, facciamo così. Questo me lo riprendo. Questi li facciamo crescere tutti quanti. L'erbaccia è davvero stronza nell'agricraft. Vi potrebbe distruggere un'intera piantagione se non fate attenzione. Soprattutto quando usate sto fertilizzante qua, che è comunque abbastanza veloce. Come potente, vedendo. Ok. Vai, pure tu. Vai. Amico mio. Uh, salveggiando. Fantastico. Ok. Allora, se io adesso ho finito... Questo semi lo voglio tenere, no? Faccio così. Vediamo un po' se... Se mi dice cavolo. Uh, semi. Perfetto. Perfettissimo. Adesso ci abbiamo la nostra piccola piantagione. Potremo modificarla geneticamente. Potremo ampliare, renderli più fighi i semi. Però per ora non abbiamo le risorse. Quindi ci prendiamo il nostro bellissimo grano. Ci facciamo il nostro paninozzo della felicità. E ciò mangiamo pure. C'è quella mod della... La better magno. Ok. Allora, di qua abbiamo un secchiellozzo di lava. Fantastico. Ma come lo prendo? Speriamo che è... Speriamo che si può fare. Speriamo, speriamo, speriamo. Vediamo un poco. Yes! Signori e signore. Possiamo fare il generatore di... La vozza. No, di la vozza. Di cobblestone. Allora. Il generatore di cobblestone è una delle cose che io più odio in assoluto. Perché mi scordo sempre come si fa. Davvero. Davvero, davvero, davvero. Me lo scordo. Non c'è niente da fare. È più forte di me. È di te. È del te. È di me. È del te. Allora, se io facessi... Oh, così poca cobblestone. Oh, la, la, la. Oh, la, 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 la. Ho così poca cobblestone e questo mi rende molto più difficile farlo. Perché io l'ho usata tutta per fare questa piattaforma del Cassius. Quindi, al momento, io direi che possiamo fare acqua che scende qui. E... no. No, devo essere un po' più alto. Ah! Non mi ricordo come si fa, ragazzi! Non lo faccio mai! Merda! Merda secchissima! Ah, facciamolo per di qua, così posso permettermi di farlo cadere. Allora, io voglio che la cobblestone diventi qui. Quindi, qui, lava, no, perché altrimenti, ecco. Vediamo se metto la lava qui che succede. Perfettolo. Però se rompo questo, non lo so. Non mi ricordo, eh, non mi ricordo. Mi sento un po' un babbeo quando faccio le cose vanilla. E di qua, l'acqua deve stare... Perché non l'ha presa? Cosa sta accadendo? Ok, se era impallata l'acqua, ragazzi. Ok, è bruttissimo. Vediamo se succede qualcosa di buono. Pronto? Ragazzi? Signora lava? Che cosa sta succedendo? Aiuto! Help! Non mi ricordo se le slab prendono fuoco. Forse le slab non prendono fuoco. Vediamo. Quella sicuramente sì. No, non de... No, no. Bruttastro. Via. Ok. Sto facendo un casino. Merda. Verdissimo, ragazzi. Sto facendo un casino incredibile. Questa potrebbe funzionare? Se mi diventa ostidiana spacco tutto, eh. Uh! Uh! Sembra funzionare! Però non è quello che volevo ottenere. Andiamo a prendere un po'. Merda, ragazzi. Mi sento un cartino. È che non le faccio mai. Se ci avessi un po' di redstone potrei fare... Ah. Ok. Ok, qui sotto è andata. Adesso c'è un piccolo problema. È questo. Ok, allora. Se io rompo qua sotto. Ok. E poi rompo qua. Poi metto questa qui. Ecco la cobblestone. Cobblestone, vieni! Ah, ma questo qui posso togliere. Ho fatto un accrocco inguardabile. Eccolo qui. Rimetto la lava... Qui. Vediamo. Olè! Olè! No, è finita dentro la lava. Olè! Vediamo. No, di nuovo! È finita dentro la lava. Scusa, eh. Ma dovresti venire un po'. Ogni tanto dovresti venire da me. Signori, abbiamo un generatore di cobblestone. È fantastico. È meraviglioso. Vaffaculo! Vabbè, quella me la metterò a prendere. Io, successivamente. Diamo un po'. Questo vuole altro legno. B-Restaurant. Adesso l'Honeycomb ci arriverà piano, 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 piano. Molto piano. Oh, uno! Fantastico! Grazie! Sei adorabile! E di qua dovrebbe comunque esserci un po' di energia. Fantastico, fantastico, fantastico. Quindi, ragazzi, prossima puntata. Se lasciate un botto di mi piace, sarà su, probabilmente, il prendere la legna per fare i macchinari. Per andare dove non capisco, sinceramente. Almeno che non ci sia un Magma Crucible. Io ho fatto tutta sta cosa per buffo de cazzo. Però non credo. È divisa all'ustro. Bella per voi! Ciao!